Il Giro del Trentino 2014 abbiamo iniziato a vedere il vero Duarte nella prima salita importante di questa gara. L'anno scorso, secondo le tre cime di Lavaredo, quinto sul Galibier, quest'anno quali saranno le tappe di Duarte al Giro d'Italia? Io voglio essere una buona generale nel Giro d'Italia e anche voglio cercare di ottenere il Montecampione, che è una etapa abbastanza vicino alla casa dove vivo, qui in Italia, e anche Nelson Colan che mi piace molto, per lo che è una carriera dove si definisce molto e dove hanno ganato bastanti corredori fuerti e grandi. E che Giro d'Italia sarà invece per il team Colombia, per l'intero team Colombia? Sì, io credo che per i colombiani il Giro d'Italia sarà abbastanza buono perché ha molta montagna, per il team Colombia anche perché abbiamo entrenato abbastanza forte e siamo molto mentalizzati. Grazie!